Gentili telespettatori e anche ascoltatori che ci seguono dalle radio, delle radio in FM Stereo, da quelle online, faccio riferimento al circuito Radio Science di Treviso, Science TV perché è anche televisione. Un cordiale saluto da Massimo Bonella e oggi parleremo delle nuove tecnologie. A proposito di Radio Science, qui abbiamo proprio il direttore editoriale di Radio Science di Treviso, che è una conoscenza da un po' di tempo. Come stai Rosario? Sto bene, salve a tutti quanti. Mi sento emozionato, sono sempre in radio e in tv, poi mi sento emozionato quando mi intervistano, chissà perché. Cambia il settore, eppure il denominatore comune è quello. Certamente, innanzitutto volevo salutare tutte le persone che ci guarderanno, che guardano questa trasmissione perché so che va su tutto il circuito digitale, digitale terrestre, oltre che sul web, insomma, che questo è importante. E insomma, da questa chiacchierata che faremo vorrei che vogliassimo molte persone, quello che è il nostro progetto, il progetto del web radio, di creare questo grande network delle web radio, perché vorrei portare le persone, insomma, ad entrare nel nostro circuito. Se dobbiamo raggiungere quel numero di web radio, da diventare un qualche cosa di molto importante e soprattutto di radicato sul territorio, cioè essere presenti in tutte le città, come dico così, in tutti i posti sul nostro territorio, territorio italiano, parlo io, non solo qui nel Veneto, in Friuli, oppure in Emilia con Modena, eccetera, ma arrivare oltre. Infatti ecco, c'è una... il bello poi ci arriviamo di questo circuito perché è composto da una serie di emittenti sempre online di taglio locale, che si va dalla piccolina, che poi sono io che la rappresento, radiofavaroveneto.it, fino giù a Radio Valdichiana, ricordiamo anche l'ultima entrata a Modena Noi Radio, che si occupa dello sport. Sì, si occupa... è un'attestata proprio giornalistica, si occupa dello sport trevigiano, accenno trevigiano, scusatemi, ma modenese, perché è un emittente che si trova a Modena. Anzi, salutiamo questa ultima entrata, ma salutiamo a tutti quanti, quelle che sono le nostre... le web radio del network in questo momento. Saltiamo Alfredo di Radio Reno Web, saltiamo te di Radio Favaro Veneto, che siamo qui. Saltiamo gli amici di Radio Valdichiana, saltiamo anche Radio Isso, che è sempre a Modena. E poi c'è l'amico Franco, editore, scusatemi, è un piccolo editore qui del Trevigiano, si trova a Salgareda, in provincia di Treviso, che ha messo su questa piccola web radio, che si chiama Radio Sismundi Libri, che prende il nome proprio dal nome della società. Sismundi Libri qua vicino, insomma. Ecco, come vedi queste nuove tecnologie rispetto a quella che è la TV tradizionale? C'è chi dice che la TV tradizionale il futuro lo vede nel web, io sono ancora del parere invece che è un po' l'opposto. Ecco, è interessante sentire una tua opinione in merito. Ecco, diciamo innanzitutto che è ancora troppo presto per quanto mi riguarda e dall'esperienza che ho fatto del web, per dire che il web soppianterà la televisione del digitale, insomma, perché poi in effetti il web che cosa ci porta? Ci porta sia ad avere un maggior numero teorico di visitatori, insomma di ascoltatori, però dall'altra parte abbiamo il problema ancora della tecnologia, perché le reti, guardiamo le reti in Italia, non sono insomma al top. E poi la web TV ha bisogno di molta banda per avere molti ascoltatori, non è come la televisione digitale che va via etere, chiunque può, diciamo, capire, prendere il segnale e guardarsi la TV. Però, insomma, spero che con le nuove tecnologie ci arriveremo, perché in questo momento già con le smart TV si è raggiunto... Ecco, questo è importante, ecco. Ecco, si è raggiunto appunto con le smart TV la possibilità di guardare le web TV su un televisore, perché adesso le nuove televisioni, le nuove concezioni che ci sono oggi tecnologiche, possono essere collegate alla rete. Cioè, in effetti si sta arrivando appunto a questo. E allora quindi dal tuo televisore puoi guardare qualsiasi cosa, insomma, che ti interessa, che si trova sul web. Ma non per niente ci sono i grandi media, possiamo chiamarli media, oppure grandi portali come YouTube e altri, insomma, che hanno milioni di televisioni, perché non è che quando nasci sul web i costi sono minori, però la visibilità è inferiore. Ecco, c'è questo appunto, ecco, hai fatto bene chiarire un po' questo punto tecnico. Diciamo che la televisione online potrebbe anche andare in qualche modo a braccetto con la TV tradizionale. Ad esempio, qui veniamo ad un altro concetto importante di Radio Science TV, che è anche, ricordiamo, televisione, che poi risponde al sito internet, molto semplice, radioscience.it. Ecco, praticamente tu ricevi anche trasmissioni dal terrestre, sia radio FM stereo che anche, diciamo, UHF digitale terrestre, e le rimandate in onda, praticamente, in modo tale che poi il telespettatore può rivederle in un secondo momento con calma. Ad esempio, in Radio Valdichiana, noi ospitiamo la diretta teleidea, chianciandola poi da dove, ricordo, è nato questo settimanale nel 2001. Ecco, quindi uno, non so, è in ufficio, può sentire le ultime notizie della giornata, e alla sera al telegiornale si mette a icona Radio Valdichiana, intanto sente l'audio del TG, quindi, mentre continua a lavorare, sente anche le ultime news, quindi viene sempre aggiornato. Ma certamente, perché, guardiamo un attimo, tutte le televisioni del digitale terrestre stanno sbarcando sul web, perché hanno capito che è il futuro. Già da questo cominciamo a capire la direzione nella quale si andrà, un giorno, insomma, andremo avanti. E quindi, tu parlavi di Teleidea, questa emittente di Chianciano Terme. Sì, esatto, una storica televisione. Dove tu hai collaborato, Teleidea, no? Proprio, dicevo, è nato proprio su quella televisione, questo settimanale, che, anzi, ringrazio i colleghi che puntualmente ce lo rimettono in onda, ecco, gratuitamente. Prego, Rotario. Ecco, non solo abbiamo i player su Radio Valdichiana, che chiunque può guardarsi Teleidea dal web, ma ogni tanto Radio Sites TV in diretta si toglie l'ospizio, vogliamo dire così, insomma, il piacere di rimandare i TG di Teleidea, perché sono molto interessanti, anche se sono locali. Però a noi interessa questo, avere l'informazione locale, che è molto importante. Ecco da dove nasce l'idea del network, per creare tante redazioni locali e avere informazione sul territorio. Cioè, in fin dei conti, noi dobbiamo essere vicini a chi ci vede, a chi ci ascolta. Esatto. Ecco, in conclusione, perché siamo un po' fuori tempo, stiamo per arrivare a fuori tempo, ecco, le prospettive di questo nuovo network online Radio Sites, che so che conta anche diversi ascolti. Eh beh, certo. Beh, le prospettive è quello, in effetti, di allargare, di portare, perché l'obiettivo è di portare a 50 web radio. Non dico in contro fine anno, perché è difficile, noi non abbiamo i soldi, non abbiamo le possibilità economiche che hanno i grandi network. Sì, ecco, precisiamo, noi siamo dei freelance, che praticamente, editorialisti di queste emittenti, anche in alcuni casi, le testate, e vedi anche il pianeta OGTV, che praticamente, al tempo libero, vogliono far passare un messaggio di tutela della vita, praticamente. Ecco, bravo, proprio questo. Il nostro compito è quello di invogliare. Cioè, e noi diciamo sempre, quando sono partito con Radio Sites, direi risvegliare il neurone nelle persone, no? Perché se un neurone si è appiattito, si è fermato, grazie ai grandi media che ci hanno imbottito di sonnifero, trasmissioni sonnifero, richiamo io. È un problema che, in strettissima, anzi, in megasintesi, è partito dalla P2, poi da lì praticamente si è abbassato il grado culturale della gente. Questo meriterebbe, cari telespettatori e radioscoltatori, una nuova trasmissione a parte, perché veramente ce ne sarebbe da parlare, anzi, forse un ciclo di trasmissioni. Ecco, in due minuti, Rosario, prospettive, allora, di Sajuz. La prospettiva di Sajuz è cercare di arrivare a 50 web radio e raggiungere quanto più persone possibile, ampliare le nostre trasmissioni, perché già adesso abbiamo un sacco di trasmissioni, da Spazio Aperto, Osservatore dell'Antimafia, Social Evolution, Due Compari, Don Quixote e Mulini a Vento, sono tutte le trasmissioni, non solo, che fanno risvegliare, sono tematiche, questo neurone, appunto, delle persone, cioè invogliare le persone a capire e poi andarsi a informare. Ma anche trasmissioni più semplici, trasmissioni come Social Evolution, dove si intervistano amministratori di pagine di Facebook e si fanno parlare, si fanno raccontare la loro storia. Quindi per un pubblico più giovane. Più giovane, bravo. Oppure i Due Compari, dove lì è prettamente una trasmissione per artisti, maggiormente musicali, gruppi, cantanti, però emergenti, non musica SIAE, ma musica dove le persone mettono a disposizione i loro brani, la loro musica sotto licenza Creative Commons, maggiormente. Ecco, sottolineiamo, licenza Creative Commons. Sì, questo tipo di licenza, che è free, tra virgolette, però è una licenza per la condivisione. Ecco l'altro aspetto, dove è cambiato l'altro motto di Radio Sites, condividere. Noi dobbiamo condividere le informazioni, dobbiamo fare in modo che le persone ragionino, ma non quello che noi gli diciamo. Non dobbiamo noi inculcare le persone oppure portarle al nostro pensiero. Dobbiamo invogliare le persone a ragionare e poi a informarsi maggiormente. Esatto. Bene, io ti ringrazio per queste considerazioni, per queste spiegazioni, anche per questi chiarimenti, per capire bene la differenza tra emittenti online ed emittenti terrestri. Ci sarebbe anche interessante il satellite, ma poi questo è andato in mani privati e quindi quelle poche TV locali che hanno cercato di salirci sopra, di adoperarlo, se ne sono scese. Credo che qui da voi nel vento non ci sia rimasta una ancora. Comunque, termina qui il nostro settimanale. Grazie ancora Rosario e buon lavoro. Grazie a te Massimo e un grazie a tutte le persone che ci ascolteranno, ci guarderanno, perché è importante il messaggio. Esatto, è questo che noi lavoriamo, spendiamo tutto del nostro tempo proprio per questo fine. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo come sempre e ci sentiamo la prossima settimana. Buonasera a tutti.